Un ristorante di alto livello in Ungheria che impiega anche disabili. Una fabbrica belga in cui gli studenti aiutano a sviluppare soluzioni di trasporto per chi ama le bici. Un'azienda greca che impiega persone vulnerabili per il riciclaggio e il catering. Queste tre aziende hanno una cosa in comune. Tutte lavorano pensando alla gente e alla società. Sociaal ondernemen zoeken naar activiteiten die vooral een sociale impact hebben, voor de inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling. Dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica daarachter is omdat hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten wat anders moeilijk is om een job te vinden. nella società, ad esempio, ci sono i terapetico e l'apocatastica, e l'altra è la migliorazione dell'energia. È una grande sensazione che in un'esperienza di fare un'attività di 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 un'attività. La mia relazione è molto ha cambiato, che sono più di più che vedono, Questo è il nostro corpo, questo non è solo il fisico e il lavoro che vediamo, ma ora è solo il comunicare, il lavoro che si tratta di un'esercitazione. Le imprese sociali possono offrire un importante contributo per far fronte alle sfide socio-economiche esistenti. La Commissione europea sta collaborando con persone sul campo per elaborare strumenti su misura volti ad aiutare queste aziende a crescere e a fare la differenza. Imprenditoria sociale, il lato umano degli affari.